madre pervasa anandamai ma 1896 1982 madre pervasa di beatitudine figura fondamentale per l'avanzamento dell'indoismo fin da bambina le sue tendenze mistiche la spingono a seguire tutti i sentieri dello yoga già prima del matrimonio avvenuto all'età di 12 anni perviene all'illuminazione senza l'aiuto di guru e senza l'ausilio dei testi sacri nel 1929 i suoi discepoli edificano il primo ashram a dhaka nei decenni successivi vengono i numerosi altri a benares calcutta e kankal nel corso della sua vita anandamai ma attraversa l'india per portare conforto ai bisognosi di ogni ceto e di ogni credo religioso parla di sé come di questo corpo che concepisce come uno strumento musicale dice ciò che si sente dipende soltanto da come lo si suona commento una mistica molto elevata e come tale all'ultima incarnazione umana grazie grazie grazie